Ohhhh... sto registrando... cacando... Oiegh... sto registrando cacando... Uiegh... Oguralam... Eccoci dovevamo lasciato... Dovravamo registratte per la seconda volta... Che sorghi di te? Oh, Firefox Anasho... Ingh является Mours Putter shotgun, don't so se c'è sotto l'alcol acqua, vai Non so se ci sta nello schermo Noırım Not- No impact Cantato puzzo... No, no su- Ma come nasce Cagatunin puzzo ragazzi? Era il 1923, sbarco in Normandia. Answer to the question. Ma chi è il primo cadetto, cagato nel puss? Ma a pecore. Ma vi rendete conto che il Big Bang potrebbe essere falso? Perché tipo prima di noi, cioè prima dell'universo, c'era... non so. Il Jackman, il Mickey. Il Mickey no, non c'era. Cagato Puss, Squiritore. I gabinetti nella villa non c'è stanno. La gente va a volinare nei... I gabinetti. I giardinetti. Un secondo. Ah, ah. Zizi. Oh Massimo, Massimo, super boss. Massi, mi puoi fare la tua reazione se mai ti sciogliessero nell'acido? Naaaah. Basta. Ehm... credo di morire. No, vai, ci metti un po' di più suami. Sì. Vai. Icaaaaah. Kanye West fa cacare. Volevi dire i cazzi? Icaaah. Cioè, non ce la faccio a dire, non riesco a... Alla, proprio. Mi fai il verso che faresti se ti sciogliessero nell'acido? Aaaaah. Vedi, guarda il mio. Aaaaah. 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 Che muoio. Bellissimo. A me è più realistico. Che sei un attore male. Che sono un po' napoletano, il genito top. Porta qui, culo! Eeeh, il primo! Il primo! Il primo! No, no! No, Massi, dimmi, i tre protagonisti dei romanzi di... Allora, Alfonso Nitti, sicuramente. Di una vita. Poi, Senilità, Emilio Berentani. E la coscienza di Zeno, Zeno Cosine. Vorrei a difecare, Massi. Ti accomodi a quella bocca dei cinipati, solo me. Vieni qui, soldati! Eheh, eheh! No! Dai, ti voglio subito a leggendare. C'è un cinipa. Ma quando è stato il Mikix? Mi sono un attimo qua, poi c'è un cinipa. Ma che si dice? C'è un cinipa. C'è un cinipa. C'è un cinipa. C'è un cinipa. La cavalleria era arrivata, ma non in tempo. Ci ha detto. Mi spiace, Carlo. Giuro su Dio che c'ho troppo in te, cazzo. Frank sta andando a cercare la testa di Buddha. Quarto giorno. Ore 6. Vendettaaaaaa. Vendetta vera, non finirò in galera. È tipo una... Lando Norris. Lando Norris. Su una tua persona. Non è Lando Norris, brother. Si chiamano via. Ma peor. Ed è ben. Non è Geo. Geopop. Ma i Geo sono... No, Geox, la scarpa che respira. Geo... Terra, il merda. Il tipo. Oh, Dio. Dele minuto. Oh, no. È bellissimo. Guarda qua. Bellissimo che esce in Impact. Ma si prova ora. È l'open world migliore. Raffa, te li videogiochi nel cielo. Ci metto le palle sul fuoco. Non sai proprio una stessa. Mi spiace. I videogiochi Raffa, ne hai giocati tre in tutta la tua vita. Ne hai giocati quattro. Si. Io si ho piaciuto... Oddio, Dio. Sargenti contro Trar. No. I need a hand. I need a hand. No. Si è un granito. Ah, che giù. Mi ha rovinato la scena del Joe. No. La zona di quarantena è stata ridotta contro la boda. Le situazioni disparate contro l'orca selvaggio e gli infatti che tentano di andare per il mondo. Il mio passaggio mi sta portando verso l'ultimo centro di comando di questo maledetto. Casino inferno. I pezzi di ossia si trovano lì. Voglio che quei pezzi di merda mi dicano che cazzo sta succedendo. Devo sapere che sta succedendo. Non trovare campo. Quindi andiamo a andarcene anche che possiamo. Quarto giorno. Ore 12. Fuga. Dal Vietnam. Presumibilmente. Tio. Mente. Tiro. Secundiga. Contra la nave in Europa. Come animale domestico. Potrei rispondere il miti. La tedesca o un cane? Allora. Domanda importante. Eeeeee. Direi in. Che. Non so perché sicuramente si è il figlio di una cagna. Quindi sono. No. Hai finito il gioco? Quasi. Resumo. Fuga dal Vietnam vuoi fare. Magari. I. 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 La. 突. I. I. il gemello, basta. Non esiste. Ma lui mi sono un po' sud. Posso tenere qua? Mano al camp. Reagan. La ritirata strategica degli alleati dal Vietnam. Come ho fatto a perdere sta guerra americana? Ehm. Dobbiamo venire in Asia e sto casa, credo. Storicamente, cioè, combattivano contro dei contadini con il cappello a punta, lì. Non è che il cappello a punta è un minuto. La sfiderina. Il vomito addosso il sangue, il sbotto. Diamine. Diamine ma stessa. Cazzo. Sento l'elicottero. Sono la via per la salvezza. Come? Sono salvo? Sono l'elicottero? Torniamo negli USA. No. Stiamo senza dime. Se l'altro non fate il bello della morte, la mia chitta possa tornare indietro. Posso portare indietro il calcolo e possono fare anche lì. Allora dove si trova? Hanno trovato l'elicottero, la sfida è avanzata. Mi sta spianando. Stai a dire, devo facciare le calcolo. Devo andare, devo spiegare una cosa solo quanto adesso. Mentre te non mi sta aspettando. Vedrà che vi devo spawn anche finito.